buongiorno a tutti ciao max ciao abbiamo appena concluso un primo trimestre molto particolare direi quasi confuso dove il vero protagonista è stata la volatilità anche nel mondo obbligazionario finalmente dopo tanti anni siamo partiti all'inizio anno con timori riflazionistici quindi qualche dato un po più forte di ciclo e sull'inflazione hanno fatto addirittura temere una partenza forte al rialzo dei tassi con il tre giugno americano che si è avvicinato pericolosamente al 3 per cento nel giro di un mese è cambiato completamente lo scenario e siamo tornati a guardare il ciclo preoccupandoci di eventuali rallentamenti il 3 è tornato a 2 75 in europa siamo 0 50 davvero un scenario molto confuso anche lato obbligazionario immagino cosa possa essere successo sull'equity e beh l'equity ha amplificato questa fase di incertezza diciamo che siamo sicuramente nei mercati equiti nella fase finale dei cicli di movimenti diciamo nell'onda di distribuzione lo si vede chiaramente dall'alternanza dei settori che guidano questi rialzi del mercato con soprattutto secondo me l'elemento chiave è che nel primo trimestre abbiamo visto un po il minimo della volatilità quello che nei tassi era successo due anni fa un anno e mezzo fa l'abbiamo visto sulla volatilità da qui in avanti la situazione è sicuramente crea qualche opportunità ma a costo di una variabile rischio volatilità un po più elevata del rispetto alla media storica ma questo è sicuramente vero anche lato bond l'unica garanzia nel mondo bond è che abbiamo ancora un l'unica banca centrale in realtà insieme alla ben con japan ma per noi è estremamente rilevante che l'acb sia ancora assolutamente supportive tant'è che il tasso del bond è ancora schiacciato a 0 50 sul decennale e in maniera sorprendente si è andato a creare un divario incredibile rispetto al treasury oramai ci sono 230 basis point differenziale tra il tasso decennale del bond appunto a 0 50 e il mondo del del treasury che viaggia il 2 80 2 75 2 80 questo dice tante cose ovviamente dice che il ciclo americano è più avanzato ma forse da anche un po di supporto alla nostra europa e forse anche al nostro paese ma gli reddc un altro elemento che secondo me va un pochino va considerato in questa situazione è che c'è sicuramente un trend dei tassi che è più visibile in europa in america rispetto all'europa ma in questo a questa situazione si è inserito il tema dazi che è un tema che ti porta a privilegiare magari titoli domestici quindi questo aumenta l'incertezza sui mercati e secondo me sarà molto interessante vedere quello che sarà il reporting che sta per iniziare inizierà nelle prossime settimane dove mi aspetto magari molto bene la parte americana e qualche rischio su quella europea per il mondo bond come di consueto nel prossimo trimestre gli occhi saranno puntati sulle banche centrali e soprattutto sul meeting icb che darà qualche dettaglio in più sul tapering e sulle sue tempistiche in questo momento in realtà i mercati sono una fase di calma relativa dopo la piccola tempesta del primo trimestre ci sembra di poter dire che esistono dei tempi di investimento che tornano a essere molto interessanti in primis i subordinati finanziari ma stiamo guardando con interesse anche al mondo delle convertibili spostandoci quindi un po verso il mondo tuo max ma anche da noi sarà interessante vedere il reporting che sta per iniziare e l'altra considerazione da fare soprattutto riguardo l'italia che un po per la composizione del nostro indice che è un indice dove prevalgono settori quali i finanziari l'energy e le utilities e meno il ciclico meno presente il ciclico secondo me abbiamo sofferto meno del tema dazi una dimostrazione anche gli effetti delle elezioni italiane sono stati sostanzialmente nulli quindi ci apprestiamo a vivere ancora una fase abbastanza interessante per quanto riguarda i ritorni grazie mille